Ben tornati in un fantastico video sul canale di me, te stesso! Salve! Questo è un video aggiornamento da dove ci eravamo lasciati con il primissimo video che abbiamo fatto riguardante la nostra casa È uno story time... Story? Story time! È uno story time, è uno storyteller Story time! Raccontiamo una storia, ovvero tutto è un riassunto delle vicissitudini e peripezie che ci sono successo in questi due mesi Perché ne abbiamo viste di cotte di crudo... crudo? Prusciutto! Da dove partire? Partire dal... Abbiamo deciso di rifare il bagno che c'è dentro questa casa, tutto il resto della casa è a posto, però il bagno non ci piaceva, allora abbiamo deciso di rifarlo Partiamo dalla scelta delle piastrelle, perché è una delle cose più difficili che un uomo può fare nella sua vita, ovvero scegliere le piastrelle Assurdo E soprattutto... Da dove è arrivato quello? E soprattutto matcharle tra pavimento e rivestimento quando si parla di bagno Di due cose diverse più che altro Il nostro viaggio parte da Bricoman Andiamo a Bricoman Per farci un'idea Non abbiamo trovato quella piastrella che diceva, cazzo è lei Caruccio Caruccio, ma... Quello che piaceva a me non piaceva a lui, quello che piaceva a lui non piaceva a me, eeeh... Sai che c'è, andiamo a dare uno sguardo alle Rua Marlen, tanto poi comunque tutto il resto del bagno credo che lo dobbiamo comprare lì, lo compreremo lì Ci facciamo tutta la città in tangenziale Aspetta, in tutto questo raga erano i primissimi giorni in cui si scoppiava di caldo e noi siamo usciti con la felpa e la tuta lunga perché i giorni prima faceva freddo E soprattutto senza acqua e senza cibo al presso Va bene, andiamo alle Rua Marlen e finalmente ci mettiamo a guardare le piastrelle, colpo di fulmine perché vediamo proprio, ci sono proprio i bagni costruiti, no? Sì Abbiamo visto il setting di un bagno e mi ho detto, cazzo, è lui Bellissimo È lui, lo vogliamo così Andiamo nel reparto piastrelle, iniziamo a guardarle La piastrella di rivestimento è sempre stata la prima scelta appena vista da Rua Marlen lì nel setting già fatto Il marmo bianco, un finto marmo bianco Un finto marmo bianco con delle venature Effetto marmo, ecco Andiamo a chiedere, disponibilità c'era Ok Le ultimissime Mi ha detto che culo Mi ha detto che culo Mi fa Ma vuoi ritirarle subito perché ce l'abbiamo in magazzino? Sì, facciamo, guarda, se ce l'hai io me le porto a casa Mentre ci siamo Don't you worry Sono 540 kg, ti stanno in macchina Ma secondo me no Porca tro**a Quindi niente, le ho dovute ordinare perché è assurdo La spedizione costava meno dalla sede centrale, che non so dov'era Esatto Tipo a Bologna, ipotizziamo Sì Che da Torino a casa nostra Per fare l'ordine, in automatico l'Erwa Merlin ti crea un account Quindi mi crea un account E dicono Non serve a niente Non serve a niente, è in default È solo per fare Va bene, fai l'account Ma sì, fai tutto E siccome noi la casa ancora non ce l'abbiamo Ad oggi, perché mancano 9 giorni 10 Il primo luglio teoricamente saremo dentro Abbiamo deciso, boh Spediscimela in ufficio, le mettiamo in ufficio Poi in qualche modo le porteremo Rivestimento trovato Siamo messi il cuore in pace Boh, abbiamo deciso Adesso con cosa abbiniamo questa piastrella? Adesso con cosa abbiniamo questa piastrella per fare il pavimento Guardiamo diversi esempi Io subito ne vedo uno, mi innamoro Sì, cade l'occhio a Stefania su una piastrella pietra Effetto pietra Andiamo a chiedere E ci dicono Non è più in produzione Benissimo Niente, escludiamo la pietra Anche perché era l'unica pietra che avevano in negozio Passiamo un'altra Sempre su, diciamo, un grigio scuro Comunque un tema scuro Aveva delle venature un po' begioline Perché in realtà la piastrella di marmo che avevamo scelto Aveva del begiolino dentro Non era proprio un marmo grigio Che poi in realtà invece, vedendola poi adesso a luce del sole È più grigia di quanto in realtà sembrava all'interno del negozio Troviamo un altro tipo Andiamo a chiedere Non ce n'è più, finita C'è solo un pacco, guarda, niente Perché hai solo un pacco? Perché me le mettete tutte lì in esposizione se poi non avete niente? Scegliamo una terza opzione che comunque ci piaceva Perché richiamava un po' quella del vestimento Quindi era sempre un marmo un po' più scuro Un po' più sul grigio, sì Va, 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 guardare sul computer Niente, finita, non ce n'è più Siamo andati avanti con questa tiritera per circa tre ore Mentre grondavamo di sudore Tutti sudati Dovevamo prenderci i campioni noi E portarci di vicino alla piastrella che avevamo scelto Per vedere se matchavano Praticamente, cioè, queste piastrelle pesavano un fottio Esatto Per me, poi che sono alta un metro e un tappo Ma per me che sono un vecchio Una volta io, una volta lui La mia borsa Tienila tu Prendo io Sposta lì Metti quello Questo per tre ore Un casino Questo per tre ore Perché praticamente abbiamo scelto circa 15 modelli E nessuno era disponibile Dopo tre ore abbiamo detto Senti Stai Facciamo una cosa Lasciamo perdere Si vede che non è destino Che prendiamo il pavimento qua Torniamo da Brico E vediamo se c'è qualcosa Che solo per il pavimento ci piace Che fai? Prendi una piastrella da una parte Una piastrella dall'altra Ma non sembra il caso Capito? Poi dalla disperazione abbiamo detto Sai che c'è Vaffanculo Quindi prendiamo la nostra macchina Partiamo Ci rifacciamo tutta la città con 40 gradi Sì Arriviamo Fuori da Brico E mangiamo un panino E mangiamo un panino Perché era ora di franzo già da due ore Mangiamo un panino marcio Dal panino In cui sono stato malissimo Perché era un paninaro di quelli proprio scrausi brutti Entriamo E siamo entrati proprio a buffo Ce n'è questa Praticamente per capire quale piastrella comprare E mecciare Esatto Per metterle una di fianco all'altra Siamo entrati da Brico Man con la piastrella Di Lerua Merlaine Una piastrella di Lerua Merlaine Che ho dovuto comprare Quindi mi sono dovuto portare Dall'Lerua Merlaine Un pacco di piastrelle In più In più Che ho acquistato Perché se no non potevo avere l'esempio Da mecciare con un altro negozio Entriamo Ma tu ti osi entrare con una piastrella Che non è del loro negozio? Ti ho detto Ma che cazzo me ne frega Entro con questo piastrellone che è enorme In braccio Io me lo voglio far vedere proprio qui Prendilo 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 Escilo 60 per 60 Come avete visto dal video Noi siamo andati in giro con questo Ficcato dentro un carrellino Perché pesava una cifra E l'abbiamo appiccicato A tutte le cose esposte Esatto Vediamo una piastrella di pietra scura Ma che bella questa pietra scura Guarda se l'appoggi come sta bene insieme Chiediamo all'Omino L'Omino ci dice Sì ve la faccio vedere Dovrei avere il campione Quello un po' più piccolo In maniera da confrontarle meglio Tira fuori sto campione Ed è completamente diverso Ed era grigio Chiaro Bianco praticamente Completamente diverso Abbiamo scoperto Che praticamente Se tu la vedi Lì appesa un colore Se la vedi Alla luce del sole fuori Nè un altro E se la vedi Tipo con una luce ancora diversa Nè un altro ancora Sì E quindi lui ci ha consigliato Siccome siete un attimino indecisi Perché vedete un colore Rispetto che un altro Le faccio entrare fuori dal magazzino E così le vedete alla luce del sole Andare da un'altra parte Perché il magazzino è da un'altra parte Completamente sotto il sole cocente In attesa che ci portassero un campione Per vedere se ci piaceva Perché un campione? Perché attenzione Le piastrelle anche qui non c'erano Quindi abbiamo dovuto poi ordinarle Perché effettivamente Quando ce l'ha portata Abbiamo detto Sai che c'è? Mi sono rotto il cazzo Ci stanno Sono belle Le prendiamo E vaffanculo Ma adesso non ve la faccio vedere Perché è 60% Metto la foto qua È una lastra enorme Di finta pietra Se poi non matcha Veramente Tutto questo in una giornata Cioè dalle 8 circa del mattino 9 fino alle 5 e mezza Del pomeriggio Per trovare le piastrelle Ragazzi siamo arrivati Eravamo paonazzi Io lo dico Dalla disperazione Appena me l'ha fatta vedere Ho visto che più o meno Poteva piacerci Ho detto Senti prendiamo questo Mi sono rotto il cazzo E non è ancora finita Ma non è ancora finita Perché le piastrelle Poi sono arrivate I 18 pacchi 18 pacchi Ogni pacco 4 piastrelle Del peso più o meno Da 60 per 60 540 kg di roba Arrivano Finalmente qua in ufficio In un bancale E io gli ho detto Ascolta Ma entrami in ufficio Col bancale Perché così poi Me le scarico tranquille Non che me lo lasci In mezzo alla strada Fate questa prova Sputate per terra La grandezza Di quello sputo È la misura Per cui Non è entrato Il bancale Dentro l'ufficio Cioè proprio Cioè per tanto così Non riuscivo a entrare E quindi mi hanno dovuto Lasciare il bancale fuori E noi un pacco alla volta 5 cento di piastrelle In mezzo alla strada Un pacco alla volta Cioè con un caldo Torrido fuori Ci siamo dovuti portare Le piastrelle dentro Con una metodologia Che faceva veramente A una certa Ho capito Che non potevo Portarmi il pacco Da fuori Fino a dietro All'ufficio Allora io riuscivo Solo A dare una mano a lui A portarle E a spostarle Alzarle Non riuscivo Metterle giù Non riuscivo Quindi doveva fare Praticamente tutto lui O potevo solo Dargli una mano Allora ho ideato Questa genialata Due sedie Una fuori Su cui appoggiamo La scatola E quindi me la trasportavo Così La mettavamo qui E con questa La trasportavamo dietro Così per 18 volte In circa un'ora Un'ora e mezza Abbiamo portato Le piastrelle Dentro E per tutto il giorno Sono stato così Nel divano Poi non le abbiamo Neanche tutte portate Di là Alcune sono rimaste Qua Dello spinimento Certe sono rimaste qua Ho detto Boh poi se le porta Luca E poi è arrivato Perché se non c'entra un cazzo Poverino È arrivato Luca A darci una mano Grazie Luca Grazie Luca Ma la cosa bella Che ovviamente Poi dovremmo Riprenderle Ricaricarle sulla macchina Riportarle Alla casa nuova Per poi farle scendere Della macchina E salire fino al terzo piano Però stavolta Furbo Adesso tipo domani Dopodomani vado Dalle Ruamerland Mi compro un carrello E vaffanculo Che le porta a mano Vabbè questa è stata L'avventura delle piastrelle Ma mica è finita qui Vuoi mettere dei mobili Dentro questo bagno Partiamo di nuovo Direzione del Ruamerland Per fare il preventivo Di tutto il bagno Quindi i mobili La doccia I sanitari Il walk in della doccia Tutto Ci fa il preventivo Ci pensiamo un attimo Magari questo weekend Ci fa il preventivo Con una cifra Era venerdì Ricordatevi che dovete fare la tessera Se volete usufruire degli sconti Su tutta questa serie di robe Che bello Dai facciamola Quindi torniamo Per fare l'ordine effettivo No Abbiamo fatto come prima cosa La tessera Quando mi hanno fatto la tessera Mi hanno chiesto un'email L'account precedente Che mi era stato creato Per le piastrelle Per le piastrelle Non ho potuto Poi effettivamente usarlo Perché praticamente Mi dava errore Quando io Provavo ad accedere Faccio presente questa cosa E la signora mi fa Ma vabbè Ma dammene un'altra Chi se ne frega Ne facciamo un altro Va bene Facciamolo un altro Mi fanno l'account Tutto va a posto Riesco a entrare Questo funziona Scarico l'app Questo funziona Tutto con i miei dati Giusto Facciamogli oggi nel negozio Torniamo nel reparto bagno Dove ci rifanno Preventivo Con un'altra persona però Perché il ragazzo Che ci ha seguito Quella volta non c'era Esatto E questa volta Ci fa anche proprio Tutto il mobile Quindi tutto il mobile Come lo volevamo Con le misure Il mobile rimane nero Il top è bianco I cassetti sono push pull Il lavandino sospeso Il mobile è sospeso Il lavandino appoggiato sopra Sì il lavandino d'appoggio Però la cosa bella Che in tutto questo Nel preventivo Che ci aveva fatto Il ragazzo del venerdì Non aveva messo i sanitari Non aveva messo i sanitari Quindi noi ci eravamo fatti Un'idea di prezzo Sbagliata Perché mancavano Mancava un cess Quindi ha dovuto aggiungere I nuovi sanitari Faceva una cifra Totalmente diversa Era più alto Allora adesso Facciamo un esempio Di cifre Solo per capirvi Quello che è successo Ma le cifre Non sono queste Ci fa i calcoli Con tutti i disconti Applicati Visto che abbiamo Fatto la tessera Ma attenzione Non riesce a Praticamente accedere più Al mio account Il primo che era Stato creato Praticamente c'erano Due account a mio nome E uno andava Cancellato E quelli sono passate Due ore dove Questo qua Non riusciva a cancellare Il mio account E no è così E no è così Fa duecento cosa Al computer Manco fosse la nasa Ovviamente con i computer Del play sto cene Riesce finalmente In qualche modo Credo a cancellarmi Un account Allora Con tutti i disconti Eccetera Fa quattromila Ipotizziamo Un po' così sconsolato Cazzo Pensavo comunque Ci fosse un po' più di sconti Eh sì Ma sei sicuro Che gli sconti Sono applicati Infatti sì sì Ma comunque È tutto calcolato Qua puoi vedere la cifra Andiamo alla cassa Ciao Noi dovremmo Abbiamo fatto l'ordine Dovremmo pagare Cosa facciamo Bonifico Assegno È la cassiera Veramente Veramente Antipatica E scortese Io ho una pazienza Enorme come una casa Ma questa l'ha fatta Perdere pure a me Vabbè ci tratta Veramente di merda Con quella supponenza Del ca Eh sì Passate di lì Fate così Alla fine Decidono di fare Sto assegno Noi non avevamo mai Fatto l'assegno Elettronico Praticamente con il QR Ti prende l'assegno E poi passa E poi passa in banca Eravamo un attimino Impacciati Non sapevamo cosa dir Io ho sempre fatto Quelli che si firman E lei ti guardava come per dire Quindi Poi inizia a farmi Ma l'assegna a nome tuo O a nome della ditta Perché noi ovviamente Abbiamo la partita io Io ho detto Non cambia niente Perché comunque La ditta è individuale Quindi il conto è quello Guarda che se poi Non passa è un problema Ma perché non dovrebbe passare Ho comprato 700 cose In questi anni Perché non dovrebbe passare Ah ma io ti avviso Guarda che se non passa È un problema Ma quale problema deve esserci Alla fine l'assegno passa Ovviamente La cassiera ci fa Il totale è 2,5 Ma sei sicura? No perché Che dinamica hanno detto Che faceva 4 No fa 2,5 Mi faccio Non sei sicura? Questa è la giornata sconti Hai esufferito degli sconti Ti hanno fatto Il conteggio con gli sconti Fa 2,5 Ma vabbè minchia È la svolta Ah ok Allora lo sconto era questo Se è sbagliato il tipo E paghiamo 2,5 Arriviamo a casa Mi siedo al pc Apro l'email L'eruamerlen Tada Se vuoi completare L'acquisto del tuo ordine Devi saldare 1500 euro Ah Eh? Ma perché? Cosa? Cioè ho appena pagato E mi chiedi ancora soldi In sostanza Mi chiedevano la differenza Quello che mi hanno fatto pagare Sul posto E quello che mi aveva detto Il primo ragazzo Quindi io sono dovuto tornare Il giorno dopo Con l'incazzatura Di non aver capito Alla fine che sconto Mi hanno fatto una supercazzola Cioè non ho capito Effettivamente io Di che sconto ho usufruito Credo A sto punto credo Di nessuno sconto Sono dovuto tornare L'eruamerlen E chiedere spiegazioni E effettivamente Abbiamo dovuto dare Quella differenza di 1500 Perché se no L'ordine non sarebbe partito Ma non potevi Farmi pagare tutto lì E neanche quella Che ci ha risolto Questo problema Ha capito Che cazzo Hanno combinato sti qua E quindi questa è stata La nostra prima esperienza Con l'eruamerlen Che non è finita Memore di questo Qualche settimana dopo Torniamo Dall'eruamerlen Per avere La sicurezza Che un pezzo Dell'ordine Fosse effettivamente Presente nell'ordine Perché quando abbiamo pagato E tutto Ci è stato detto Che è lo specchio Del walk-in Il vetro del walk-in Scusate Non sapevano Se fosse stato disponibile E quindi dopo Circa due settimane Sarei dovuto andare A vedere se A vedere se c'era Se non c'era Me l'avrebbero cambiato Con un'altra cosa In mia scelta E mi avrebbero fatto Poi un buono Questo vetro Non c'era Ci ha servito Servito una ragazza E già non capiva Cosa gli stavo dicendo Lei però molto gentile Su questo Poi gli ha detto Guarda devi cambiare Praticamente Sto walk-in Lo vedi che è rosso Lo vedi che è rosso Non c'è più Lo devo cambiare Ok allora Lo cambiamo Ti faccio vedere Quello che è disponibile E poi la differenza Ti facciamo un buono Mi faccio vedere Va bene Intanto devo comprare Altre cose I lampadari Eccetera Fa tutto il cambio Di sto cazzo di cosa Mi fa Vai dall'altra parte Il negozio Di nuovo Tutto questo 40 km avanti e indietro Che la collega Ti fa il buono Vado dalla collega All'altra parte Del negozio Ho fatto l'ordine Ho dovuto cambiare Il walk-in Mi hanno detto Che mi fa il buono Della differenza Questa mi guarda Mi fa No Cioè così La risposta è stata No No perché non è un reso Sì e quindi Cioè i miei soldi Cosa devo fare io Cioè quindi ci rimetto i soldi Devi aspettare che arriva la roba a casa E quando ti arriva ti faranno un buono Ma scusa Il corriere mi fa un buono Cioè il corriere Marietto che mi porta della roba Mi fa un buono lui Ho iniziato a sudare A grondare A agitarmi Prendo Manda affanculo la tipa No però Ve lo dico tranquillamente Manda affanculo la tipa Dicendoli Lavorate di me Vado dall'altra parte E non c'era più la ragazza di prima Ma c'era un ragazzo Che Sentendo le mie urla Si avvicina E mi chiede cosa stesse succedendo Li spiego super mega agitato La mia irritazione Li faccio Ma ti sembra normale Che uno Vengo qua Spendo 4000 euro Mi dicono Paga 2,5 Poi il giorno dopo Devo tornare E dannare altri 1500 Lui mi fa Boh io non so che cazzo abbiano combinato Ti sembra normale Che la ragazza mi dice Vai di là ti fanno un buono E il buono mi dicono che non lo fanno Allora lui mi fa No sei calmo Capisco In effetti c'è ragione Inizia a chiamare tutti i reparti Ed effettivamente Sto cazzo di buono Me lo faranno Solo quando mi consegneranno la roba Lui era tipo Mario c'è un problema Un attimino qua con un cliente E io che ho un clave Un pazzo Mi avete rotto i coglioni Poi giustamente Non è colpa C'è gente che sa lavorare E gente che non sa lavorare Non puoi fare di tutta l'erba un faccio Purtroppo devo dire Che l'esperienza in questo negozio È stata alquanto negativa E ancora deve arrivarci la roba Io ho veramente paura Di cosa arriverà Io pure Ti ripeto C'è qualcuno che ci ha trattato Veramente bene Come l'ultimo ragazzo Ad esempio Che si è preso la briga Di risolvere il problema Perché alla fine Erano più problemi insieme Devi essere gentile Con le persone Io impazzisco Quando mi rispondono di merda Puoi fare tutti questi bordelli Io sono ancora convinto oggi Di non aver usufruito Di nessuno sconto L'Elua Merlense Ci stai guardando Sappi che Io vorrei il mio sconto Vorrei capire No vorrei solo capire Se lo sconto l'ho avuto o no Questa è stata l'esperienza Per l'acquisto Di tutto il bagno Poi Poi Sempre dall'Elua Merleno Abbiamo comprato un'altra cosa Che è il lampadario della cucina È fatto Un rettangolo nero Un rettangolo nero Vuoto Con dentro Tre lampadine Esatto E poi ve lo faremo vedere Nei prossimi video Nel mezzo Però Abbiamo avuto una bellissima esperienza Invece con Mondo Fino adesso Sì Con Mondo Convenienza Perché abbiamo avuto la fortuna Di beccare Il grande Mauro Ciao Mauro Che è un nostro fans Che ci segue sempre E ci ha fermato Mentre stavamo guardando Ci ha Ci ha seguito Durante tutta la nostra scelta Da Mondo Convenienza Abbiamo preso Il letto Il rumba Il rumba Il rumba Il materasso Perché dato che ci sei Prendi anche il materasso Non c'ho voglia di scegli il materasso In un'altra parte L'ho preso lì Il divano Siamo partiti con il Raffaello Poi il Raffaello era troppo grosso Perché avevamo problemi Sì perché in mezzo a tutto questo Noi non avevamo la misura esatta Da diciamo il gradino Poi lo vedrete Dal gradino della scala Al muro Perché non vivendoci Quando siamo andati a prenderlo L'abbiamo presa veramente male Quindi Non sapevo quale fosse la misura esatta Quando poi abbiamo avuto la misura giusta Ci siamo accorti Che Raffaello Purtroppo Lasciava quei 90 cm di spazio Che ha fastidio E quindi abbiamo dovuto prendere un divano Eravamo indecisi tra Elettra e Il loto Il loto Il loto era quello più comodo E confortevole Sì Elettra non mi ha dato le vibes giuste Perché per me è un po' scomodo E alla fine siamo rimasti con il loto Mi hanno dovuto trovare un compromesso Purtroppo il loto non ha la colorazione che volevamo Non matchato con tutta la stanza Troveremo il modo di matchare Sti cazzi Un saluto grande Mauro che ci ha seguito È stato veramente gentile Se vi trovate al mondo convenienza A Moncaglieri chiedete del buon Mauro Esatto Adesso stiamo solo aspettando La data della consegna Tutto molto veloce È un mondo convenienza Easy semplice Fanno tutto l'oro Ti dicono Ti chiamano Ti messaggiano Ti arriva tutto per email Paghi alla consegna O dai un piccolo anticipo Quando fai l'ordine Poi si sa Ci sono quei piccoli problemi Di cui si lamentano tutti Sui montatori Sui montatori Ma adesso vedremo Poi quando ci portano la roba Però adesso è un'esperienza positiva C'è da dire che abbiamo preso comunque Non per dire la cucina Abbiamo preso Divano e letto Che magari sono un po' più facili da montare Rispetto a una cucina Non lo so Poi Altra avventura Siamo andati all'IKEA Per vedere un po' di cose Che dovevo comprare Il motivo per cui siamo andati all'IKEA Che io ho deciso di costruirmi Tutta una gaming room Da me Diciamo che ho cercato Non la scrivania già fatta Ma mi sono voluto Costruire io la scrivania Sono andato lì per progettare Il tavolo della scrivania Che si fa Con un piano di lavoro Di una cucina Quindi il tavolo Il tavolo della mia scrivania È effettivamente il top Di una cucina E sarà lungo 2,10 m Per 75 di largo La larghezza Volevo fare 80 Ma io sono piccolino Faccio fatica Quando magari devo schiacciare Il tasso di un mixer Ma le braccia corte Sì Perché l'ho fatta su misura Perché nessuno vende Tavole più lunghe di 2 metri E larghe più di 67 Che sono quelle standard Detto questo Vado dal tipo Che fa Il planner Dei piani I progetti E gli faccio Guarda che io devo solo fare Un piano di lavoro Ci mettiamo 5 minuti Ti do la misura Il materiale E boh Me lo stampi E vado a pagare No Non puoi Devi prendere un appuntamento Ma non è un progetto Devi solo farmi un piano Guarda che non è un progetto Una tavola Non devo fare una cucina Perché devi andare nel reparto cucina Praticamente a fare Il progetto di questo Piano di lavoro Ci mettiamo veramente 5 minuti No Devi prendere l'appuntamento Devi prendere l'appuntamento No prendo l'appuntamento Entravamo lì però Ci siamo fatti fare il progetto Del mobile per la tv Che non abbiamo comprato Perché mancavano i vetri di fumè Siamo tornati a casa Senza il progetto Della mia scrivania Senza il progetto E senza il mobile Della televisione Non abbiamo concluso Ma nel mezzo Abbiamo detto Sai che c'è Iniziamo a comprarci Le cassettiere Le malmo Le malmo Le malmo Come cazzo si chiamano Malmo Le malmo Uno è malmo A meno quelle Tanto quelle ci servono Le prendiamo Sì perché le metteremo Poi all'interno Della cabina armadio Esatto Quando torno a casa Ma fammi vedere un po' Sul sito internet Mi è rimasta questa cosa Del mobile Tv Guardo sul sito E compare Un modello leggermente diverso Ma con il vetro fumè Il ragazzo che ci aveva fatto il progetto Ci aveva detto Che non sapeva Quando sarebbe tornato disponibile Esatto E noi abbiamo semplicemente Aspettato qualche ora E la sera Tipo alle nove e mezza È tornato disponibile È tornato disponibile Ma in un'altra configurazione E io vi dico Era più bello Sì Di come l'avevamo fatto noi Il problema Attenzione È che c'erano solo due pezzi Sì E quindi mi è iniziato a collare La gocciolina Che dovevo comprarlo subito Vai a caricare la carta Perché può spe Ogni volta di imprendere Partire Andare a caricarla Che due coglioni In ogni caso abbiamo provato Per la prima volta Clicca e ritira Abbiamo testato Clicca e ritira È una figata Loro te lo preparano Tu arrivi all'Ikea Vai alla cassa Te lo danno E te ne vai a casa Praticamente il giorno dopo Torno all'Ikea Ma non prima Di passare di nuovo Dal carissimo planner Delle cucine A dirgli Oh zio Senti ma 5 minuti Ci mettiamo Dai fammelo adesso No Devi prendere l'appuntamento Ce l'ho già l'appuntamento Vengo domenica Nel mezzo Abbiamo preso anche Le due cassettiere Alex Perché le due cassettiere Alex Sono coloro che serviranno A tenere su il piano Della tua scrivania Esatto Saranno i piedi Della mia scrivania Comunque Matt farà un video A riguardo Per quanto riguarda Tutta la gaming room Farà un video Proprio a parte Di tutta la gaming room Tutta la progettazione Tutto dove ho preso le cose Proprio i pre Tutto Arriva la domenica Vado finalmente All'appuntamento All'appuntamento Andiamo dal planner Ci fa il progetto Ci mette esattamente 5 minuti Ah la cosa che non vi ho detto È che la prima volta Che ho chiesto di fare questa cosa Mi hanno augurato così Devi fare una scrivania Ma sei sicuro? Siamo nel reparto cucina Ma con un piano da cucina? Sì guarda Si fanno così È proprio una cosa Da gamer Bla 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 Si usano queste Perché sono alte 3 centimetri Sono più spesse Quindi sono spesse Sono più resistenti Ma lo sai che arriva tra 3 mesi? Non mi importa Tu fammela e basta Ti pago Fai quello che voglio io Oh no! Minchia a volte sembra Che non vogliono Che spendi i soldi Vabbè Ho fatto 2,10 Che raga 2,10 è bella lunga Comunque Madonna è una sberla E questa arriverà Il 30 di luglio Quindi effettivamente Ci mette ben 2 mesi Però noi siamo già partiti prima Già perché sapevamo Che comunque c'è Carenza di materiali in generale E tutto quanto Ci siamo già mossi prima Tra l'altro il primo Quello che non mi voleva far fare Neanche il progetto Ma tu lo sai Che ti costa almeno 100 euro Di consegna Ah voi sappiate solo Che se voi andate all'Ikea Vi comprate La scrivania Quella elettrica Che fa su e giù Quella loro nuova Quella da gaming Spendete di più Che farvela Come me la sto facendo io O più o meno Spegniamo uguale Ed è più piccolo E soprattutto Non è vero Che spendi 100 euro Per fartela portare Perché ne spendi solo 49 E che cazzo Va bene Questo è stato all'Ikea Un caldo atroce Un sacco di persone Una volta abbiamo mangiato anche lì Stefania voleva le polpette Madonna che buone Io ho mangiato la pasta Diciamo che forse era meglio Se prendevo le polpette Te l'ho detto Nel mezzo sono impazzito Per trovare la tv Per la camera da letto Perché volevo Uno specifico modello No Ecco cosa è successo Raga L'avventura da media world Minchia è vero No raga Allora Ho scelto due modelli di tv Uno per il salotto Del 2022 Nuova di zecca E uno un po' più vecchiotto Per la camera da letto Questo per la camera da letto Niente Introvabile Quello nuovo Qualche negozio iniziava ad averlo Vado a media world Vediamo E qua una delle esperienze più surreali della mia vita Arrivo al reparto televisioni di media world Salve Sto cercando la qn90b Eh? No sto cercando una televisione samsung qn90b Ah ok Guarda ti chiamo l'addetto Ah ma non eri tu Arriva questo ragazzo Non credo che lo abbiamo Cerco sul computer Si mette in una postazione con un commodore 64 Non sto scherzando E per circa un quarto d'ora Io ho dovuto aspettare così Solo che si accendesse il computer Esce fuori Login Admin E password Mette il suo admin E a un certo punto fa Si ma la password qual è? Mauro! Qual è la password? Niente Nessuno risponde Chiama E gli danno sta password Mette la password E avete presente la classidra di Windows 98 20 minuti Prima che il computer Si accendesse Dalla schermata di avvio Alla schermata Del desktop quella di home Poi cerca di entrare nel software Terno loro Dove gli dice tutta la disponibilità Degli elettrodomestici Degli elettrodomestici Ma il software non funziona Voilà Quindi cosa fa? Prende il suo telefono Mi guarda e mi fa Eh a volte bisogna fare da sé Nel frattempo può stare 45 minuti Guarda sul cellulare e mi fa Ma sai che non c'è? Faccio guarda Io l'ho vista stamattina che era disponibile Costava 1.590 Una roba del genere Ma lui in sostanza era Dentro all'app Come lo siamo noi Esatto Cioè non era dentro Come persona che lavora all'interno Cioè lui guardava che siamo a noi Mi fa Guarda ti dico Io so solo che se la compri qua Fa 1.990 Vi faccio Ma vabbè Niente Lascia perdere Nel tragitto per uscire al negozio Guarda Lui vi faccio Scusa Ma sì 400 euro di transazione finanziaria Ma da dove arrivano? Come acquista valore? Come acquista valore il bene Dal sito al negozio? Hanno un magazzino bellissimo Di 400 euro Cioè sto Che mi ha fatto aspettare un'ora 400 euro in più? No ma fatemi capire Cioè io posso capire 50 euro Perché devi pagare il lavoro dell'addetto Ma 400 euro Per essere preso pure per il culo Perché non vi funziona un c***o di computer Siete media war C***o il d***o E non ci avete un computer che funziona E sta c***o di tv Alla fine Non l'ho trovata Nel frattempo Mi fisso su sto modello Che volevo Per la stanza da letto Introvabile in tutti i c***o di store Negozi Anche online A un certo punto Su un euro Parte un'offerta Lo prendo Così senza pensarci Era l'ultimo pezzo E' arrivato No che culo E' arrivato stranamente E' un buon televisore Diciamo Ce l'abbiamo Che può durare ancora anni Ce l'abbiamo fatta Questo è arrivato Ho avuto il culo Di averlo pagato un po' meno Poi in questi ultimi due giorni Ho trovato La c***o di tv Che cercavo Per il salotto Oggi mi gira il c***o Perché costa 70 euro in meno Vaffanculo L'ho trovata in offerta Sempre da uni euro Ma attenzione Perché Il giorno prima che io comprassi Questo televisore da uni euro Mi è successa una cosa Non voluta C'erano I giorni di Sconto dell'iva Su uni euro C'era l'offerta Noiva Quindi c'era un sacco di offerte Il Noiva Day Stavo guardando Un'asciugatrice Della Electrolux Che abbiamo già Selezionato Perfect Care 9000 L'ultimo modello Super mega wow Che ti asciuga pure Il buco del culo L'avevamo vista La prima volta In offerta Una media war tre mesi fa Che non sapevamo dove mettercela A 699 Nel frattempo La 699 Era cresciuta 899 799 950 Apro un euro 600 euro Ehi Metto no La devo prendere Non ci soldi sulla carta Rifletto che Anche se la prendo Dove c***o me la metto Che Ma la porto in ufficio Perché ancora Non abbiamo la casa No Allora guardavo così Ma per sfizio Per capire come funzionava Consegni il negozio Perché su un euro Puoi fartela portare a casa Ma puoi fartela Anche a consegnare il negozio E ho cliccato su Consegni il negozio E ho scelto il negozio Più vicino a noi Faccio conferma Per confermare Che era quel negozio Un certo punto Si blocca la schermata Continuo io a cliccare conferma Proprio A spammare Con la conferma Così no Due minuti di nulla Un certo punto Si aggiorna Grazie Per aver ordinato Da un euro Ti arriverà presto Io sono sbiancato Ho detto che c***o Ho detto che c***o ho fatto Oddio Ma poi non c'ho i soldi Come ho fatto a pagarla Vado a controllare I soldi non me li hanno tirati giù Vengo a scoprire Che in sostanza La lavatrice arriva al negozio E poi la paghi in negozio Mi si è aperto un mondo Perché tu in teoria Anche se poi non la vuoi più Basta che non vai a ritirare il prodotto E loro lo tengono E loro lo tengono E lo rivendono a qualcun altro Una volta che me l'hanno spiegato Ho fatto la stessa cosa col televisore Visto che era in offerta Lo so che ci sono i saldi Tra poco Ma siccome è roba nuova Secondo me non la troverò così scontata E soprattutto Poi finiscono i pezzi Stessa cosa che ci è successa col frigo Perché volevamo Un determinato tipo di frigo Finiti tutti i frighi Cioè proprio non c'è più un frigo in giro Cerco sto c***o di frigo E rimaneva solo un frigo In classe B Stesso modello Di quello che volevamo In classe A Ma in classe B Questo sempre su 1 euro Di costa Vabbè Senti carichiamo sta c***o di carta Apro 1 euro E il frigo non c'era più Da 1100 costava 1.6 Ho detto ma porca puttana Cerco sul sito quello li trova prezzi Che mi ha consigliato Dani E mi dava il modello in classe A Su Amazon Un prezzo veramente super mega scontato Considerate che costava 1.3 Passa E l'ho trovato Molto molto scontato Tipo 1.100 Tra l'altro disponibilità Un pezzo 1 Ma ci fidiamo che ce lo porta Amazon Eeeh E gli ho detto ma sai che c'è Ma che c***o me ne frega Aggiungi al carrello E via Ma sai che c'è Manca solo la lavatrice Fammi guardare un po' Volevamo sempre un Electrolux Per avere la coppia no Guarda sul sito di Electrolux In offerta proprio il modello che volevamo Sempre visto 800 799 600 euro Ho detto no Lo dobbiamo prendere E allora mi sono fatto prestare Saldi a Luca Ciao Luca Grazie Luca E ho preso pure la lavatrice Sperando che arrivi In un giorno e mezzo Sono riuscito a comprare In offerta Praticamente tutti gli elettrodomestici Risparmiando dal calcolo Che avevo fatto Circa 500 euro Eeeh E sono stanchissimo Non ne posso più Siamo a metà dell'opera Ora aspettiamo Che arrivi il tutto Ah non vi ho detto una cosa L'asciugatrice Dobbiamo andare a ritirarcela Noi Io e Luca E stai Con una macchina Figi Olè Ah no E poi ho fatto apposta Sali da rampa Eeeh 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 Arrivo forte Vabbè Che adesso Mi fa parte in avanti Matt Vabbè Questo è stato Diciamo L'aggiornamento Fino ad oggi Degli acquisti Che abbiamo fatto Sì Siamo in attesa Di entrare A brevissimo In casa E siamo stressati E il prossimo video Lo vedrete Da là dentro Io piangerò E ve lo dico già Vi ricordo solamente Di lasciare un mi piace E un commentino Sotto questo video raga Perché il fatto che voi Interaggiate con il video Ci aiuta Ad andare in tendenza E aiuta L'algoritmo A farci andare bene il video Quindi per favore Raga interagite Perché è una cosa Importantissima Portare Posso chiudere Con una piccola perla Quando Dall'eruomberlain mi sono incazzato Il tipo mi vedeva Che ero incazzato E lui mi fa Sai cos'è Si chiama ristrutturazione E io gli faccio Sai cos'è Si chiama Non saper lavorare Porca me